Tutti ormai conoscono il trucco del buco dietro il quadro, rendendolo del tutto inutile. Ma se ti dicessi che esiste un modo migliore per nascondere i tuoi oggetti? Tutto quello che devi fare è piazzare una shulker box e un blocco sulla tua testa. Dopodiché aprila e ci passere attraverso come se niente fosse. E a meno che i tuoi amici non vogliono direttamente rubarti la shulker box, questo nascondiglio è introvabile. E tu conoscevi questo passaggio segreto?